Scusate, ma che state a dire? Cioè, amatriciana di coccodrillo, ma che sarti in bocca di canguro che zompano magari direttamente dal piatto e chissà dove vanno a finire? Eh, quell'altro, la spingetta di cioccolata, ma che ve dice che c'è cazzo? Che uno mangia e sente... Senta, guardi, il punto è questo. In tempi di crisi la gente fa solo due cose. Mangia e muore. Quindi, se vuole fare i soldi, o cucina, però qualcosa di nuovo, no? Come ne stiamo proponendo noi. Oppure apre le pompe funebri, che le devo dire. Grazie. 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 Grazie.